Assessore, com'è nata questa iniziativa di questo corso di guida per i ragazzi delle scuole, in particolare per i ragazzi delle terze medie? Nasce dalla constatazione, soprattutto d'estate, che i nuovi elementi di micromobilità, parlo dei monopattini, ma in futuro parleremo anche di bike sharing, e parleremo di scooter elettrici che comunque sono già utilizzati in una certa misura nella città, e la scorsa estate si sono registrati dei fenomeni, diciamo, conflittuali, tra gli utilizzatori di questi monopattini, che sono ragazzi giovanissimi, che possono utilizzarli e possono contrattualizzarli, e una certa parte anche della nostra comunità, che ha mostrato una giusta intolleranza rispetto a comportamenti assolutamente sopra le righe da parte degli utilizzatori dei monopattini stessi. E quindi si è ravvisata la necessità di iniziare un'azione, accanto a quella di repressione che viene svolta dalla Polizia Municipale, anche di educazione, rivolta proprio ai ragazzi della terza media, che si affacciano comunque al mondo della veicolarità, e che quindi saranno poi coloro che da lì a qualche anno conseguiranno patenti per la moto, per la moto, patenti per l'auto, e saranno anche gli utilizzatori a noleggio dei mezzi di micromobilità elettrica. A una parte ci sono anche state delle innovazioni dal punto di vista del codice della strada, perché il problema di Pescara evidentemente è un problema di tutta Italia, e quindi si sono stabiliti anche dei criteri per le aree di sosta e di parcheggio dei monopattini stessi, che sono spesso lasciati con il concetto di free floating in maniera irregolare, ma i ragazzi devono imparare a rispettare delle regole, devono rispettare gli adulti, devono rispettare soprattutto anche il pedone e comunque i soggetti più deboli della strada. E tutto questo, se non viene loro insegnato, diventa difficile. Evidentemente non basta il lavoro che fanno le famiglie, a questo bisogna aggiungere anche il lavoro della scuola. E mi piace precisare che per questa iniziativa, per la prima volta, abbiamo anche un fondamentale ausilio da parte della motorizzazione civile, che io ho voluto coinvolgere, dell'Automobile Club d'Italia. Quindi avremo titolari di autoscuole e dall'altra parte avremo anche tecnici della motorizzazione civile, che daranno un grande contributo dal punto di vista pedagogico. Oltre la nostra Polizia Municipale e anche con ufficiali in congedo che hanno svolto per vent'anni questo tipo di attività.